La Regione Emilia Romagna rilancia il proprio impegno a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese dell'agroalimentare e ha fatto il punto su situazione, progetti e strumenti in un seminario ospitato alla terza torre della Regione. Sentiamo. Da Go Global, il programma per l'internazionalizzazione della Regione Emilia Romagna all'Intelligent Export Report di Union Camere fino alla borsa merci telematica italiana. Sono tre strumenti a disposizione delle piccole e medie imprese agroalimentari per sbarcare o rafforzare la propria presenza sui mercati stranieri. Per illustrarne le potenzialità, la Regione Emilia Romagna ha organizzato a Bologna un seminario al quale hanno partecipato esperti e imprenditori dell'agri-food. Dopo un 2015 da record per le esportazioni del settore agroalimentare che ha toccato un valore di 5,8 miliardi e una crescita del 6,2%, la Regione guarda al futuro perché c'è ancora un significativo potenziale inespresso. Il mercato interno è sostanzialmente stabile e l'export è una via obbligata per crescere. ha sottolineato l'assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli. Anche se i numeri attuali ci danno buone soddisfazioni sull'export dobbiamo avere presenti quali sono le grandi tendenze del mondo in questa fase e in particolare è assolutamente fondamentale avere presente che l'e-commerce è già una realtà molto rilevante in tanti paesi e che però per affrontarlo può avere degli strumenti adeguati anche dal punto di vista delle imprese e poi le politiche pubbliche naturalmente devono sostenere questa tendenza. Il programma per l'internazionalizzazione della Regione Go Global mette a disposizione per il 2016 17,5 milioni e per i successivi 4 anni, fino al 2020, circa 12 milioni all'anno. La banca dati di Union Camera, il sistema IER, è uno strumento di informazione per chi vuole esportare. Oltre 150 milioni di società, tutti i dati import-export per oltre 8 mila prodotti a livello mondiale. Fra gli strumenti presentati a Bologna, la borsa merci telematica creata dalle camere di commercio di Brescia, Parma e Milano una piattaforma unica, regolamentata di contrattazione, un mercato reale e non finanziario. Questa è una delle scelte che ha fatto il governo italiano nel 2000 quando ha stabilito che la borsa telematica italiana doveva avere prima di tutto delle caratteristiche di equità e di un ruolo paritetico tra acquirenti e coloro che fornivano la merce.